Nel primo pomeriggio di oggi la Polizia di Stato, a conclusione di indagini mirate, ha posti sigili all'esercizio di vicinato GT Food Center di via Golosine. I ripetuti controlli da parte degli agenti della Questura di Verona hanno evidenziato infatti come nel tempo il negozio fosse diventato un abituale ritrovo di cittadini dediti ad attività illecite di vario genere e più volte segnalati dai residenti per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. I disordini accertati dai poliziotti potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il Questore di Verona a disporre la sospensione della licenza e la posizione dei sigili nel locale per 15 giorni, sul posto per la chiusura dell'esercizio, la Polizia di Stato e la Polizia Scientifica per i rilievi.